Grecia Colmenares è la protagonista del nuovo fotoromanzo a puntate di Grand Hotel in edicola. Una nostra truffa è andata in Argentina durante le riprese del fotoromanzo la prigioniera senza volto a curiosare sul set di Grand Hotel. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.